Come portiamo una potenza di fuoco nel perimetro che faccia scattare la procedura di lockdown? Quello è il retro del Freeport. Hai qualche idea in mente? Non ti piacerà. Vuoi far schiantare un aereo? Ma non mentre è in aria, niente di drammatico. Io voglio spostare un jet dalla pista di rullaggio, sfondare la parete e far partire un incendio. Un aereo di che dimensioni? Ecco, questa è la parte un po' più drammatica. Lui è Mayer, la sua squadra si occuperà dell'aereo. Niente passeggeri. North Freight. Hanno l'hangar sul lato ovest del Freeport. Vuoi far schiantare un cargo? E l'equipaggio? Oh, li buttiamo fuori con gli scivoli. In movimento. Che problema c'è? Se la caveranno? Ma mi sembra audace. Audace mi sta bene, credevo dicessi folle. E se vi prendo? Non succederà. Ma se succede? Penseranno al terrorismo, ma non muore nessuno, quindi... Rapida estradizione e ci eclissiamo nel sistema. Non farà quasi notizia. Dipende dalle dimensioni dell'esplosione. I lingotti d'oro potrebbero attirare l'attenzione. Lingotti d'oro? Spediscono i lingotti del tesoro una volta al mese. Un botto in coda e l'oro cade sulla pista. Nessuno farà caso all'edificio. Te lo garantisco. Lo spazio al centro del pentagono è troppo ampio. C'è qualcosa lì. Non riesco a capirlo. Non è segnato. Sono 45 secondi. Abbondante. Non devi correre? Ok, tocca a te. Fai i bagagli. Fai i bagagli.